...di Giacomo Agliari ...eccolo è lui, grande Giacomo che ha vinto lo spettore internazionale design ...grande Giacomo ...questo era il suo prun prun ...questo sono i due BMW che abbiamo visto ieri sera da lontano ...questo è quello di Fiorio e quello che sta sistemando la gomma ...ci sono tutti due piloti da venute ...Reno 5 ...Reno 5 ...Reno 5 ...Reno 5 ...Reno 5 ...Reno 5 ...Protto ...Sì ...Farala-Montegrino ...Fato Rai dei Laghi ...Curie ...Curie ...e corre per il CVM ...Mena detta ...Protto 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.